Mi ha bruciato anche il maglione, mi ha salutato, non si è ricordato che è la sigaretta. Ciao, stai bene? E allora Giovanni un mezzo fisso, dai. Tego un banana. Tu cos'è che mi dici? No, tu per rendere veritiera, cugino, la tua somiglianza, dovresti prendere tutte le donne. E fare la classica forza, la trentalance, che è lui con 7-8 donne dietro. La sfera di cristallo. Allora è l'unica forma. La sfera di cristallo. Banana? Non si vedi che fa la banana? O comunque Gretano ieri, con la scusa delle specule, sono andati su dalla signora. Lui e lui, a dinamistà ci sono andati su anch'io. Con l'ho vista che non era vestita... Cosa ha detto? Io faccio un po' lo sbirro, ve lo devo dire. Tu fai il fesettone, amico. È salito dalla vicina? No, io mi sono solo affacciato. No, non ci sono. Quando io no. Quando ho visto... No, però l'hai vista. No, però l'hai vista. Quando sì, l'ho vista. L'ha vista, allora come l'hai vista si dice in sé. No, no, io sono solo uscito quando l'hai perduto il bordo. Per prendere... Perché io lavoravo, per prendere le sessi. Sui l'ha prenduto il bordo. Poi quando l'ho vista, messa in pisciana, messa con le cartettine, insomma, proprio... Allora adesso, beh, c'è tutto qua. Però ho sentito subito che l'hai detto, oh, il problema di questo è una storia. Questa è una parata da lei. Queste due parti sono... Pippo, Pippo, fai un saluto alla stampa. Fai un saluto. Non la linguaccia, ho detto un saluto. Dai, andegni a maniera, che bravo facendo. Eccoli lì, lì. Lì da Cassarecci. Egli da Cassarecci. Egli da Cassarecci. Egli da Cassarecci.